Ancora un decesso, una donna di 77 anni di venafro che era ricoverata in una residenza sanitaria. Sono 538 le vittime dall'inizio della pandemia, un ricovero in anziano fragile, un dimesso da malattie infettive ed una persona disernia trasferita in terapia intensiva dove i pazienti salgono a 3.42 invece il totale dei degenti al Cardarelli, 17 non vaccinati, boom di guariti, quasi mille per la precisione 928 a fronte di 372 nuovi casi, 65 positivi al molecolare, 307 all'antigenico su 2.925 esami refertati con tasso di contagiosità pari al 12,7%.